Andrà agli arresti domiciliari. Il cantante trap di 20 anni, arrestato dalla squadra mobile di Arezzo, è ritenuto il capo della baby gang che da mesi stava seminando il panico in città con furti e rapine. Vittime principalmente minorenni che venivano fermati con una scusa e poi derubati del portafoglio del cellulare. Il ventenne si trovava nel carcere fiorentino di Sollicciano, ma ha fatto richiesta di una misura cautelare meno afflittiva che è stata accolta dalla giudice Giulia Soldini. Il ragazzo adesso andrà agli arresti domiciliari a casa della madre a Cremona. Su di lui pesano le accuse di rapina, estorsioni e lesioni. Da tutti è conosciuto con il nome di Montana. Questo, il nome con cui si presentava sui social come cantante trap, aveva scelto proprio Arezzo per vivere e come location anche per i suoi video in contesti urbani. L'allontanamento dalla città di Arezzo, secondo gli inquirenti, servirà anche a sciogliere il legame con il resto della banda, quasi tutti i minorenni, che agivano seguendo il capo.